Sette persone, di tutte le età, da un uomo di 68 anni a un gruppetto di ragazzi, tutti senza lavoro. Cinque italiani, un moldavo e un venezuelano, che vive in Italia da quando è bambino. Sono loro gli occupanti del vecchio edificio comunale di Via Pastori a Gallarate, sfrattati giovedì mattina dalle forze dell'ordine. Sono otto anni che vivo qui, sono stato il primo ad arrivare, dice il 68enne. Il cancello era già aperto e non ho fatto altro che cercare rifugio dentro a questo vecchio edificio. Negli anni, una cinquantina di persone sono passate di qui, di tutte le età, uomini e donne senza lavoro e senza una famiglia che potesse accoglierli, proprio come me, che prendo una pensione di 650 euro e non riesco ad arrivare alla fine del mese. Insieme a lui, dicevamo, un gruppo di ragazzi, Uno di loro gode del reddito di cittadinanza, ma spiega, non riesco comunque a permettermi un affitto regolare. I sette occupanti, fatti uscire dallo stabile, ora dovranno trovare un nuovo tetto. Che non pensino di sistemarsi in un altro edificio della città, commenta il vice sindaco Francesca Caruso. L'amministrazione Cassani elimina tutto ciò che è abusivo, come è già stato per i sinti e per gli irregolari sotto il ponte della Mornera. Noi continueremo a far rispettare la legge.